Vi ripropongo il rifacimento che trovate su Indice Alfabetico, David Allegedry, prima pubblicazione, 1 luglio 2016, dal titolo Lettera aperta a Neil deGrasse Tyson. Lettera aperta a Neil deGrasse Tyson Egregio signor Tyson, scrivo come un ex uomo di scienza che una volta ti considerava una figura ispiratrice in un campo con pochissimi carismatici uomini di colore. Posso dire che ero un tuo fan. Ho visitato l'Alden Planetarium, ho guardato tutte le tue conferenze e le apparizioni in televisione e sono rimasto colpito dalla tua capacità di spiegare argomenti complessi di cosmologia e astrofisica in termini semplici e concreti. Tuttavia, le tue recenti risposte a domande riguardanti la terra piana possono solo essere castificate come arroganti e infantili, oltre a sogghignare. Voglio dire, far cadere un microfono come prova. Mi chiedo anche, quando dici di smettere di discutere su cose che sono state stabilite per quattro secoli, mi sembra ridico dal momento che nulla nella scienza è mai stato risolto. Tutto quello che esiste nella scienza esiste come teoria, che rimane valida solo finché non arriva una teoria migliore che corrisponde più vicino alle osservazioni. Avresti detto ad Einstein di non disturbarsi perché Newton aveva già risolto il problema della gravità duecento anni prima? Mi dispiace, signore, ma avresti dovuto fare molto meglio di così. La rinascita della terra piana non è semplicemente una manciata di pazzi con cappelli di carta stagnola che mancano di intelligenza o senza denti. Questo è un cambiamento di coscienza da parte di persone comuni che hanno iniziato a riesaminare le menzogne che gli sono state raccontate fin da bambini. Il suo compito, signore, è rispondere rispettosamente alle domande legittime, indipendentemente dal fatto che siano o meno la risposta di cui tu sostieni permanentemente il modello scientifico. Tradizionalmente il progresso scientifico è saltato fuori non solo dalla comunità scientifica ma da persone comuni con un punto di vista diverso. Il metodo scientifico richiede che tu tratti ogni punto di vista con rispetto, in quanto hai il potenziale per ribaltare il modello esistente e se la scienza si rifiuta anche di prendere in considerazione visioni alternative, allora non è più scienza ma è religione dello scientismo. Quindi vorrei proporti 12 domande e darti l'opportunità di rispondere rispettosamente usando parole semplici e di facile comprensione. Termini concreti per cui sei così famoso perché sono solo un ragazzo normale, neanche lontanamente intelligente quanto te. Quindi se potessi dare le tue risposte usando termini reali e tangibili, senza concetti matematici, complessi, astratti o riferimenti alla NASA o altri dati che non ho modo di verificare, personalmente lo apprezzerei. Prima domanda, perché c'è terra all'equatore? Perché tu hai detto che la Terra per tutta la sua vita, da quando si è formata, ruotava e si è allargata un po' più all'equatore rispetto ai poli. Quindi non è in realtà una sfera, è oblata. Ma se uno sferoide oblato e i rigonfiamenti sono all'equatore, quindi è più facile spostare la roccia o l'acqua o no? Se la gravità è abbastanza forte da impedire all'acqua di essere scagliata nello spazio, allora è forte abbastanza da tenere in posizione la roccia che è molto più densa, quindi solo l'acqua dovrebbe rigonfiarsi. Pertanto, se la maggior parte dell'acqua della Terra è all'equatore, perché c'è terra all'equatore? E per favore non dire che a causa dell'altezza della Terra la maggior parte dell'Africa è una pianura piatta, a volte sotto il livello del mare. Infatti si dice che il deserto della Dankalia, nell'Etiopia nord-orientale, è il posto più basso della Terra e, incidentalmente, è anche uno dei posti più pianeggianti sulla Terra. Seconda domanda, mi chiedo, sono in grado di vedere la curvatura o no? Secondo te, non puoi vedere la curvatura nemmeno da un aereo perché la Terra è molto grande. La Terra sembra piatta perché se non sei abbastanza lontano, data la tua taglia, due, la tua taglia non è abbastanza grande rispetto alla Terra per notare la curvatura. È un fatto fondamentale del calcolo infinitesimale della geometria neuclidia. Piccole sezioni di grandi superfici curve sembreranno sempre piante alle piccole creature che strisciano su essa. Ma a quanto pare possiamo vedere navi scomparire all'orizzonte. La tua spiegazione ufficiale è che non puoi vedere la curvatura attraverso la tua visione. A quanto pare vediamo un orizzonte a 5 miglia di distanza, quindi in 5 miglia c'è curvatura sufficiente per vedere una nave che scompare, ma non riesco a rilevare quella curva su 10 miglia, perché posso vedere 5 miglia alla mia sinistra e 5 miglia alla mia destra, quindi ho un arco ininterrotto di 10 miglia, dove dovrei vedere abbastanza curvatura da nascondere due navi. Ma non succede. Quindi se vedo abbastanza curvatura su 5 miglia, perché non la vedo su 10 miglia? Andiamo alla terza domanda. Perché non abbiamo mai visto l'acqua curvare? Se la Terra piega l'acqua in una sfera attorno ad essa, allora se dovesse congelarsi all'improvviso dovremmo rilevare una gobba nell'acqua, o no? Quindi perché se è così, quando il lago Baikal in Siberia chiaccia, sopra è uno dei posti più piatti della Terra, nonostante sia lungo 395 miglia e largo 49 miglia? Dovrebbe esserci una gobba nel mezzo, alta quasi 20 miglia. Quindi perché non abbiamo mai visto l'acqua curvare? Domanda numero 4 Come mai riusciamo a respirare proprio adesso? Come può esserci un sistema ad alta pressione accanto ad un sistema a bassa pressione o negativa senza movimento dall'alto verso il basso? La risposta convenzionale è che la gravità trattiene l'aria sulla Terra. Ma se dovessi mettere sotto vuoto un contenitore fino ad una frazione del vuoto perfetto dello spazio, lo capovolgo e lo foro dal fondo, cosa pensi dovrebbe succedere? Beh, l'aria entrerebbe e riempirebbe il contenitore. Quindi come fa questo vuoto molto più debole a vincere la gravità molto più forte vicino alla superficie? Come è possibile che si può scaldare l'aria e si solleva vincendo la forza della gravità? Non dovrebbe lasciare la Terra una volta che il Sole riscalda l'aria? Se la gravità fosse l'unica cosa che trattiene l'aria sulla superficie terrestre contro la tendenza di un sistema ad alta pressione e sfuggire ad un sistema a bassa pressione o negativa? Allora, quando l'aria è riscaldata e quindi è meno tirata dalla trazione gravitazionale, allora non dovrebbe soccombere alla forza esercitata verso una regione di pressione negativa? Se, come suggerisce l'attuale opinione scientifica, un sistema ad alta pressione può esistere adiacente ad un sistema a pressione negativa, allora non dovrebbe esserci una condizione di barriera di equilibrio dove la forza verso l'equalizzazione della pressione è uguale alla forza di gravità opposta? Quindi qualsiasi cambiamento nelle condizioni su entrambi i lati dovrebbe disturbare quell'equilibrio. Non creerebbe una colonna crescente di aria calda verso quello strato limite? Quindi come possiamo respirare in questo momento? Domanda numero 5 La Terra è molto molto piccola o il Sole è molto molto vicino? Eratostene aveva fatto il calcolo della circonferenza terrestre in base al fatto che la luce proveniente dal Sole è parallela come dovrebbe essere se il Sole si trova a 93 milioni di miglia di distanza, ma chiunque può uscire in una giornata soleggiata con nuvole sparse e vedere la luce che arriva sulla Terra. Non è parallela. I raggi luminosi scendono ad angolo, indicando che il Sole in realtà è molto vicino. Ovviamente la spiegazione ufficiale è che l'atmosfera terrestre rifrange la luce del Sole ed è per questo che la luce scende ad angoli divergenti. Quindi se la luce del Sole viene sempre rifratta, allora significa che il calcolo di Eratostene è stato fatto con luce rifratta. E quindi è sbagliato. E la Terra deve essere molto molto più piccola. Ed è così. Mi sembra che se continui a sostenere che gli errori visti da Eratostene sono corretti, allora se la luce non può essere rifratta e se la luce non viene rifratta, allora il Sole è vicino. E se il Sole è vicino, allora, secondo ciò che ha fatto Eratostene, la Terra deve necessariamente essere piana. Domanda numero 6. Nello stesso modo, come fa una lente convessa a far divergere la luce? Nuovamente, la spiegazione ufficiale per i raggi divergenti è che l'atmosfera terrestre rifrange la luce del Sole come una lente. Ma l'atmosfera terrestre è apparentemente una curva convessa. Pertanto si comporterebbe come una lente convessa e convergerebbe la luce concentrandola come una lente di ingrandimento. Si avrebbe bisogno di una lente concava per far divergere la luce come si osserva. Alcuni hanno detto che in realtà sono gli angoli tra gli strati delle nuvole che sembrano far divergere la luce. Ma ancora una volta l'osservazione dice che non è così. Qui non c'è niente tra l'aereo e le nuvole e la luce è chiaramente divergente. E questa fotografia della NASA è stata scattata da sopra le nuvole e c'è ancora la luce del Sole in vicinanza che è evidente. Quindi come fa l'atmosfera a far divergere la luce? Domanda numero 7 Come fa l'orizzonte artificiale su un aereo a non rotolare all'indietro durante il volo rettilineo e livellato? L'orizzonte artificiale si basa su un giroscopio e quando un giroscopio gira resiste al movimento dell'asse di rotazione. Come la rigidità dello spazio, il motore gira e rimane nel suo assetto originale mentre il giunto cardanico e la base si muovono attorno ad esso. In altre parole, il giroscopio mantiene il suo asse rispetto allo spazio e non alla superficie terrestre. Se il giroscopio si muove intorno alla Terra il suo asse è verticale rispetto alla superficie terrestre qui ad angolo, qui è orizzontale, qui il giroscopio resisterà a qualsiasi forza che tenti di cambiare il suo piano di rotazione. Quindi l'orizzonte artificiale è essenzialmente un giroscopio montato su sospensioni cardaniche per consentire di rimanere in posizione verticale mentre l'aereo beccheggia e rolla. Così, mentre l'aereo vola diritto e livellato mentre segue la curvatura della Terra i giroscopi nell'orizzonte artificiale dovrebbero essere in posizione verticale rispetto al punto di inizio del volo e gli indicatori dovrebbero rotolare all'indietro e indicare una salita. Ho chiesto a diversi piloti anche nell'ultimo volo che ho fatto e mi hanno detto che l'orizzonte artificiale è dotato di GPS e di un'elettronica sofisticata che regola l'indicatore a seconda di dove si trovano sulla Terra. Ma quando ho contattato il produttore mi è stato detto che c'è semplicemente un meccanismo meccanico nessun dispositivo GPS niente elettronica e non è cambiato nulla nei progetti di base da prima dell'avvento dell'elettronica quindi perché l'orizzonte artificiale non si sposta all'indietro mentre girano attorno alla curvatura della Terra. Domanda numero 8 Perché l'effetto Corioli è così selettivo? Questa è la spiegazione dell'effetto Corioli da parte di un esperto di armi. Uno dei problemi più comuni è che quello che vediamo è l'effetto Corioli e ciò che i ragazzi non sanno prendendo in considerazione l'effetto che questo può avere sui loro tiri a lunghe distanze. Ora molto velocemente facciamo un po' di spiegazione sull'effetto Corioli in parole povere l'effetto Corioli è l'effetto per cui quando il proiettile lascia la canna dell'arma sta effettivamente lasciando la superficie della Terra così mentre il proiettile lascia la canna dell'arma la Terra sta ancora ruotando e il proiettile non ruota con la Terra quindi la Terra ruoterà effettivamente sotto il proiettile mentre è in volo quindi le pallottole quindi le pallottole e i proiettili di artiglieria non ruotano più con la Terra quando lasciano la superficie e secondo questa spiegazione gli aeroplani dovrebbero comportarsi nello stesso modo quindi immagina di trovarti in Texas e di avere un aeroplano di carta magico che potrebbe viaggiare per centinaia di miglia se lanciassi il tuo aereo direttamente verso nord potresti pensare che atterrerebbe direttamente a nord magari da qualche parte nel Nebraska ma il Texas in realtà ruota attorno all'asse terrestre più velocemente di dov'è in Nebraska è perché è più vicino all'equatore il che significa che anche l'aereoplano di carta gira più velocemente e quando lo lanci la quantità di moto rotatorio viene conservato quindi se lanciassi l'aereoplano di carta in linea retta verso nord atterrerebbe da qualche parte a destra del Nebraska forse nel Delaware quindi dal tuo punto di vista in Texas l'aereo avrebbe preso una traiettoria curva a destra se questo è il caso delle pallottole dei proiettili di artiglieria e degli aereoplani di carta allora perché non è lo stesso per gli aerei veri gli aereoplani non puntano a nord per andare a est infatti se gli aerei non ruotano più con la terra quando lasciano la superficie i voli da est a ovest dovrebbero impiegare molto più tempo dei voli da ovest a est e l'atterraggio su una pista mobile sembrerebbe piuttosto complicato ogni atterraggio dovrebbe essere come questo e non ci sarebbero indicatori di direzione planetaria vicino alle piste proprio come ci sono indicatori di direzione del vento quindi perché l'effetto Corioli è così selettivo? Prima di passare alla domanda numero 9 invito chi ha la mente attenta e desidera approfondire gli argomenti di usare il preziosissimo indice alfabetico trovate il link sotto tutti i video con innumerevoli dimostrazioni pratiche che l'effetto Corioli non esiste cercando le diverse voci effetto Corioli o attraverso la playlist Corioli Pendolo e Giroscopio e non dimenticate che avete anche la nutrita playlist Aerei Domanda numero 9 Cos'è la stazione spaziale internazionale che vediamo volare? Qualunque cosa sia assomiglia un po' a quello che avevo immaginato ma che non può essere se scegli un punto di questa cosa blu e bianca e la segui noterai la sua velocità verso la telecamera che è costante dal momento in cui appare all'orizzonte e si muove alla stessa velocità finché non scompare sotto la telecamera ma osserva questo filmato da un aereo quando qualcosa appare all'orizzonte si muove lentamente e più si avvicina più si muove velocemente nello stesso modo in cui vediamo le cose lontane muoversi verso di noi nella vita reale ora guarda di nuovo questa cosa tutto si muove alla stessa velocità costante il che mi dice che ciò che stiamo guardando non si estende per migliaia di miglia ma piuttosto per centinaia di metri quindi cos'è che sta sorbolando l'ISS e visto che siamo sull'argomento dell'ISS domanda numero 10 come può la microgravità essere selettiva osservate queste persone che fluttuano nella microgravità non avete visto il problema vero? guardatelo di nuovo avete visto la goccia d'acqua cadere sul fondo? in questa sequenza voglio che teniate d'occhio il contenitore di ketchup posizionato sul tavolo qui possiamo vedere che non c'è niente sul fondo della bottiglia niente velcro magneti è solo una normale bottiglia e tra un attimo vedrete la bottiglia di ketchup che viene messa sul tavolo tenetela d'occhio osservate come oscilla quando la toccano ed ancora ed ancora ed ancora è chiaramente sotto l'influenza della cosiddetta gravità come fa la microgravità ad essere selettiva bene prima di passare alla penultima domanda invito sempre ma solo a chi lo desidera se ha desiderio di scoprire che sempre attraverso la pagina indice alfabetico avete a disposizione innumerevoli voci sotto ISS ed inoltre la fantastica playlist NASA astrononauti ma attori dove appaiono spesso anche i nostri beniamini italiani domanda numero 11 perché ci sono i crateri sulla luna? se la luna fosse molto più vicina alla terra allontanandosi lentamente da noi mentre rimane strettamente attratta alla terra ed è visibile solo una parte allora perché ci sono crateri da impatto su un lato della luna che è protetto dalla terra? immagino che ripeterai la solita storia secondo cui la gravità della luna ha protetto la terra allontanando meteoriti e asteroidi ma se il campo gravitazionale della terra è molto più grande non avrebbe dovuto attrarre queste meteoriti e questi asteroidi e proteggere la luna quindi come fanno le comete le meteoriti e gli asteroidi a passare attraverso la terra o a evitare la gravità terrestre per andare a colpire la faccia della luna che è protetta dalla terra? e la domanda finale numero 12 perché non si trovano colline permanenti montagne e valli nell'oceano? la terra non è una palla regolare né perfettamente sferica ci sono un sacco di caratteristiche geologiche come la fossa delle Marianne e catene avontuose sottomarine infatti secondo alcuni resoconti la terra senza gli oceani in realtà appare così si osserva che l'acqua si comporta in questo modo o così e tu dici che si comporta così quindi perché non si comporta così? se gli oceani sono attratti verso la terra dalla gravità e la forza di quella gravità varia con la distanza dal centro della terra allora perché l'acqua non segue la forma del fondale marino? ora signor Tyson queste sono domande legittime che le sono state poste in tutta serietà penso che le domande siano semplici e dirette e le ho chiarite per lei quindi apprezzerei risposte chiare e dirette le sto inviando un'email pubblicando queste domande sulla pagina facebook sua e sul suo canale youtube e in qualche altro modo quindi per usare le parole di Douglas Adams se non riesci a non rispondere saprò che stai cercando di non farlo saprò che stai cercando di non farlo provandoci in maniera veramente forte sinceramente alleggeteli Dave Inghilterra Inghilterra